La terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore si arricchisce di un nuovo modulo grandi emergenze con altri quattro posti letto ad alta funzionalità tecnologica, una realizzazione frutto di una donazione privata di 700 mila euro, una parte grazie alle donazioni di cittadini alle associazioni L'Aquila per la vita e Bado e la restante parte erogata da Ance e Fondazione Carispac. Oggi l'inaugurazione di questo modulo che va ad integrarsi con la ristrutturazione della terapia intensiva del nosocomio aquilano, un intervento gestito direttamente dai finanziatori grazie a un comitato di garanzia che ha visto la Fondazione Carispac, capofila del progetto. Questo ha permesso grande velocità. La nuova dotazione che si somma a quella del primo lotto permette di avere 18 posti letto in totale, il doppio di quelli che c'erano prima del covid, posti che comunque resteranno anche dopo l'emergenza. Oltre ai quattro posti letto nuovi, due preesistenti sono stati oggetto di ristrutturazione. Il reparto, intitolato al professor Giovanni Leonardis, scomparso nel 2010, è collegato con il piano terra con un ascensore montacarichi, così da consentire di trasportare i pazienti senza passare per altri locali. La sala riunioni del reparto è invece dedicata ad Adriano Perrotti, ex consigliere comunale che a causa del covid è scomparso. È un accesso diretto dall'esterno, quindi dal piazzale del pronto soccorso direttamente nell'area di degenza, dove ci sono sei posti letto a pressione negativa, peraltro integrati nel modulo di terapia intensiva generale preesistente, nel modulo di terapia intensiva post-operatoria. Quindi assolutamente il completamento di un progetto importante che rivoluziona un po' al cuore dell'ospedale. Questi gesti sono fondamentali, dimostrano una cosa, che c'è uno spirito di solidarietà e di condivisione degli obiettivi tra le istituzioni pubbliche e i privati, non solo, ma la cittadinanza diffusa che fa capire che c'è uno spirito comune che ci anima. Oggi abbiamo la nuova terapia intensiva, di qui a poco avremo il progetto tecnico-esecutivo dell'ospedale di Avezzano, di qui a poco avremo finalmente la possibilità di vedere la futura realizzazione del 118 dell'Aquila. Abbiamo i sette posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale di Avezzano. Occasione utile anche per fare il punto sulla situazione Covid in Abruzzo con l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Abbiamo un aumento di numero di casi, però non abbiamo l'aumento dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e subintensiva, siamo anzi per questo fatto al di sotto della media nazionale, quindi questo è un dato che senza altro non dovrà farci preoccupare. Quello che dobbiamo fare è continuare attraverso le vaccinazioni e lo stiamo facendo ampliando il vasto raggio di azione e soprattutto ribadendo quelli che sono i comportamenti perché in questo momento non bisogna abbassare la guardia.